Colci sono passati già diversi giorni, ormai siamo più orientati sulla partita che verrà piuttosto che su quella che avete giocato, però come sempre si può imparare dalle sconfitte e in questa settimana tu hai detto che la squadra è sembrata allenarsi con un altro spirito. Sicuramente ieri abbiamo fatto due giorni un pochettino diversi, la riprova sarà sicuramente la partita quando c'è l'agonismo. Qualcosa si è visto davanti a questo, spinto su quello, speriamo che sia di buon aspiccio di arrivare al massimo di quello che possiamo dare per le nostre caratteristiche, cosa che per dire domenica non abbiamo fatto. Il problema è che poi uno, l'allenatore o anche la gente, vuole vedere che la squadra esprime al massimo delle sue potenzialità. Poi può fare canestro, non può fare canestro, ma una squadra in questa condizione non può essere arrendevole di questo, sotto questo aspetto, per mancanza di fisico, mancanza di tecnica e tutto, ma se siamo anche arrendevoli di coso, poi oltre a perdere andiamo incontro a delle brutte figurecce. Senti Meo, McDuffie è piaciuto sinceramente in quegli sprazzi, appena arrivato così, però si vede che ha la classe, ha dei bei movimenti, che cosa può portare in più alla nostra squadra? Beh, sicuramente è un giocatore che per caratteristiche è un giocatore che ha questa agilità che può saltare l'uomo, è onestamente un po' l'unico che può fare questo fisicamente, gli altri possono essere più bravi tecnicamente, ma lui ha questa qualità fisica in cui anche in campo aperto può andare a saltare l'uomo e creare qualcosa così. È logico che anche lui è arrivato dopo una settimana di conoscere un pochettino i giocatori, un po' i compagni di questo, però ci ha portato un po' di quella atleticità che onestamente a noi ci manca. Poteva essere il tuo incontro con David Logan, domenica invece a sorpresa si è ritirato, sei rimasto stupito anche tu? Beh, sicuramente quando succede una volta che uno parte così o è successo qualcosa di grave in famiglia e non si può, però davanti a questo lasciamolo a posto, sono molto legato a David per quello perché è un ragazzo di poche parole, di pochi sorrisi ma di grande cuore, perciò mi ha fatto vincere tante partite, perciò il ricordo di David è incredibile. Però per noi è un vantaggio che non ci sia? Beh, sempre meglio conto, ne hanno tanti, però voglio dire, è meglio che non ci sia David, a meno che lui dice, a me non voglio farti male e oggi gioco male, però non penso che lui avesse fatto quello, probabilmente segnava qualche canestro e poi passava davanti alla panchina e mi sorrideva.